Il PME di Bari, Luciana Silvestris, ha chiesto quattro condanne ad un anno di reclusione per gli imputati, tra i quali l'ex rettore dell'Ateneo Barese, Corrado Petrocelli, coinvolti nella vicenda delle presunte procedure illecite per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina. I fatti risalgono a luglio 2012. Le richieste di condanna sono state avanzate nel processo con rito abbreviato che si celebra dinanzi al GUP. A processo per concorso in abuso d'ufficio, falso e usurpazioni di funzioni pubbliche ci sono l'ex rettore Petrocelli, l'ex direttore amministrativo dell'Università Giorgio De Santis, Vito Sasanelli, all'epoca responsabile del procedimento amministrativo dei concorsi di accesso alle scuole di specializzazione, e Gaetano Prudente, dell'Avvocatura dell'Ateneo. Stando agli accertamenti della magistratura Barese, gli imputati avrebbero dato un vantaggio patrimoniale alla figlia di De Santis, vincitrice del concorso.